Gignori oggi ti entri in una base di biga G Usa la funzione curativa Questo si sicura G, allora, G, fammi prendere G Allora, ho visto che siamo bravi, io salvo Perché se non salvo e muoio Questo non è dove mi spawn E quando mi spawn Cos mi spawn 3 ore fa Quindi ho per sicurezza C C C C, via, ritirata, ritirata, ritirata Via Via Metti le cronate Allora Qua ci sono Rope Sì Quello esplode tutto Esplode e spacco tutto Ti spacco Oh, chi è? Dov'è? Vai Sì? La loro stessa arma Olè Ne ho preso uno Come non si sa Sì 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 Ah qua c'è un'altra cosa Per fare i cosi Sì Morto? Ma fai kaboom Grazie Ah questo è un fuoco Ma Dammi qua Tammi 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 Non so che cazzo servono Ma io nel dubbio prendo tutto Ruttamo Concentrazione Si deve Mi sto concentrando Abun Anzi Qua dentro ci può essere un'arma Innesa Che devo mettere Mio cazzo qua dentro Ah nel braccio Devo fare il tutorial Dello schianto G Ma lo schianto Possiamo servire Mi posso schiantare Allora Lb G Cazzo C'è imprimuto Lb Non serve un cazzo Beh Probabilmente Non so se lo usero mai la posso fare pure più mi trovi not quindi devo prendere la scala sì sì è come la roba è comoda la roba lo poteva dire prima però però finito tutorial di allora muovano trovare gli amici si così risparmi pure sulle munizioni non lo posso usare 300 volte al secondo g via c'è non dino lo costa lanciare c'è un muore ma morti e si giustamente vedete in basso c'è un coso c'è che si ricarica gii destinazione mare gii ovviamente abbiamo salvato la partita se non mi spawna sette anni fa ma adesso è un pacco regalo eh regalo da amazon la wishlist che mi avete fatto gii aspetta fammi mazzare qua regalo per twitch sì oh non sono capito c'è i stag con un fucile tu vieni con la mazza con la mazza da baseball si cana lor si si non cana lor si non cana lor ad hoc cazzo stai ah io la posso spendere pure da qua si non ho le munizioni è finito tutto no bugio c'ho gii mazza si può si ho il coso chi spara ditemi se avete finito eh di fare i coglioni si senti io entro qua dentro vaffanculo eh gli trascido e c'è capo daim dao ci fuori uno buo ne mancano 73 cazzo di storaggio di storaggio di storaggio lo cazzo stai lo cazzo lo cazzo c'è capo daim lo cazzo lo cazzo stai guarda si c'è capo daim allora intanto se fa così si rigenerà la vita fa un po' di esplosione si quelli sono i cosi pelli da fare esplodere nel gok li abbiamo uccisi si ora devo trovare soltanto se cazzo di cazzo scusate io voglio fare una cosa ole g mo che mi conta il race 260 c'è si guadagnate chi mo che ha fatto cazzo in scusa ma tu dove cazzo tavola tavola vedo cazzo cazzo